Il Castello Alfonsino di Brindisi, un monumento storico che rappresenta un fiore all'occhiello per la città, i brindisini, e segna, da un punto di vista turistico, l'ingresso del porto di Brindisi. Un bene che, nonostante la sua importanza storica e la sua bellezza artistica, resta lontano da cittadini e turisti. Si è parlato tanto di degrado e abbandono del Castello di Forte a Mare o del suo utilizzo proprio o improprio in questi ultimi anni. Vero è che proprio Telebrindisi Web TV, esattamente due anni fa, era tornata sulla questione parlando del suo accantonamento e della immobilità di Stato, provincia e regione, più volte incalzati da associazioni ambientaliste e società di interesse commerciale, sulla rivalutazione di un bene suggestivo e interessante sotto ogni punto di vista. A parte qualche crociera interna nel porto e qualche momento sporadico di divertimento, il castello è rimasto così come lo si vede oggi. E proprio sul degrado, in una lettera, il sindaco Consales nel novembre del 2012, all'allora ministro Ornaghi, aveva richiesto che l'amministrazione comunale rientrasse in possesso del bene per affrontare proprio le condizioni in cui versava. Il processo di sdemagnalizzazione però non si è mai attivato ed il bene resta abbandonato nella sua desolazione. Ad oggi quindi la situazione non è cambiata e l'ente responsabile della struttura, la soprintendenza dei beni culturali, non ha ancora agito e non ha ancora deciso il da farsi. Sulla questione, oggi, associazioni ambientaliste e denti turistici, in una lettera congiunta al ministro per i beni e le attività culturali dell'attuale governo retta Massimo Brai, sono tornate a chiedere la possibilità di acquisizione e gestione del Castello Alfonsino al comune di Brindisi, con la proposta di utilizzare lo stesso per finalità turistico-alberghiera, con il recupero degli alloggi militari dismessi e il ripascimento sulla linea di costa per quanto riguarda almeno gli inizi dei lavori. Una proposta concreta, ma per i tempi di risposta, nonostante siamo nel 2013, e in questo caso, più che mai, possiamo confermare che tra il dire e il fare c'è di mezzo forte a mare.